Penso che si sia delusi, delusi dalla prestazione che in una gara che ritenevo molto molto importante per il nostro percorso sia a livello di crescita individuale ma a livello di mentalità doveva secondo me essere e invece così non è stato e quindi questa arrabbiatura dobbiamo essere bravi a tenercela dentro e riuscire a trasformarla in rabbia nella gara di domani perché la necessità di dover ripartire, dover avere un approccio diverso e una voglia diversa, una determinazione diversa credo che sia alla base di quello che stiamo provando a costruire dal 14 di luglio da quando ci siamo ritrovati perché se vi ricordate quello che ho sempre chiesto anche dalle prime volte, questa è la base su cui lavorare. Facendo un confronto cercando di andare ad analizzare quello che era la nostra percezione attraverso il monitoraggio che facciamo, attraverso i GPS, attraverso della strumentazione, attraverso i test di forza. Paradossalmente questi dati non vengono avvalorati dalle strumentazioni che usiamo, addirittura pensiamo alla gara di Ponte d'Era, abbiamo fatto dei cinque monitorati, quattro hanno fatto più metri della gara nei pari ruolo rispetto alla gara con i Renate. Zac ha avuto questa botta dove ci ha giocato sopra tutta la partita, la botta con Santini, e ci ha giocato sopra tutta la partita a Ponte d'Era, il giorno dopo addirittura non riusciva neanche a corricchiare. Oggi è stato il primo giorno in cui ha fatto gran parte dell'allenamento, ha solo saltato la partitella finale. Mentre Massimiliano ha riniziato la settimana provandosi ad allenare, però quando va a terra ha dolore l'ecografia ha escluso lesioni muscolari, entrambi sarà da decidere se proveranno domani mattina o prima della gara al campo e lascerò a loro la possibilità di decidere se essere a disposizione o meno, poi dopo se farli partire dal primo minuto o meno o magari se ne parlerà insieme e mi affido anche alla loro esperienza ma anche al loro senso di responsabilità nei confronti anche dei compagni che magari si sono allenati per tutta la settimana.